L'attrazione è un fenomeno che si esercita tra due corpi sollecitati uno verso l'altro. Ma basterà per trovare il vero amore? 20 single, 10 match perfetti. Se tutti e 20 lo riconosceranno, torneranno a casa con l'amore e 200.000 euro. Are You The One Italia? Prima visione, da domenica 3 dicembre alle 21 su MTV. E segui tutta la serie in streaming solo su Paramount+.